Ricordo benissimo la prima volta che incontrai la Pira, avevo circa 15 anni, a una conferenza di San Vincenzo, lui passò per pochi minuti, lo racconto spessissimo questo episodio, e disse ragazzi da domani dovete pregare con il mappamondo sul comodino. Cioè questo messaggio della globalizzazione della preghiera. Negli anni in cui ero all'università cominciai a essere vicino al gruppo che lo accompagnava per gli aspetti internazionali, i colloqui mediterranei in particolare. La più famosa delle iniziative di la Pira in favorare la pace è senza dubbio quella per cercare di avere una conclusione negoziale alla guerra del Vietnam. E in effetti la Pira ebbe successo perché in un lungo colloquio con Oshimino, colloquio a cui ebbi l'onore di partecipare anche io, ottenne la promessa che il Vietnam sarebbe stato disponibile a iniziare immediatamente le trattative, anche senza richiedere il ritiro preliminare delle truppe americane. Purtroppo nell'amministrazione statunitense c'era ancora chi credeva che il conflitto si potesse concludere vincendolo militarmente e quindi questa mediazione lapiriana fu fatta fallire e si arrivò sostanzialmente al tavolo del negoziato sette anni più tardi sotto le stesse condizioni che la Pira aveva riportato. E qui mi torna in mente una frase che la Pira diceva spesso. Qualcuno mi chiama utopista perché dico che la pace non può che essere lo stato naturale dell'umanità oggi. E invece io sono realista. Gli utopisti, drammaticamente utopisti, sono tutti coloro che pensano di risolvere con la guerra uno strumento ormai superato dei problemi che sono totalmente inediti per il nostro momento storico. Quello che io ho appreso dalla Pira e che credo che sia un insegnamento è il fatto che, come diceva la Pira, oggi se si vuole bene alle persone bisogna fare politica. Si può fare politica in un convento di clausura se la preghiera è veramente aperta al mondo e si può non fare politica in un raggruppamento politico, culturale, eccetera, se lo si fa per difendere degli interessi personali o di gruppo.